Ciao a tutti, oggi vi vogliamo presentare una grandissima innovazione per il mondo delle perline, la pinza One Step Looper. Ecco qui la nostra pinza One Step Looper, questa è una pinza che vi permetterà, che ci aiuterà a realizzare dei cappi semplici in maniera velocissima e soprattutto ci aiuta a realizzare dei cappi tutti identici, tutti uguali. Potete utilizzarla con qualsiasi tipologia di filo di metallo o di chiodino con uno spessore che può variare dai 0,30 fino a raggiungere un millimetro. Ora vi farò vedere come si utilizza e vedrete che è davvero semplice e davvero una grande innovazione per tutti noi, perché dimezza naturalmente i tempi delle nostre lavorazioni. Allora, per farvi questo esempio utilizzerò un chiodino, inseriamo la nostra perlina e andiamo ad inserire il chiodino all'interno di questa fessura della pinza, facendolo uscire nel foro che si trova da quest'altra parte. Dopodiché posizioniamo la perlina vicino alla pinza e schiacciamo. Come potete vedere si taglia il filo in eccesso e la pinza inizia a girare il chiodino formando un cappio. Ed ecco qua il nostro cappio che poi possiamo andare ad aggiustare con le pinze piatte. Allora, come avete potuto vedere questa è una novità decisamente importante che velocizzerà il nostro lavoro, ci aiuterà a ridurre i tempi non solo della realizzazione di piccoli vendaglietti che possiamo agganciare a bracciali o orecchini, ma soprattutto ci aiuterà all'interno di creazioni che prevedono il montaggio delle perline tramite i cappi semplici. Spero che questo nuovo prodotto che abbiamo inserito all'interno del nostro catalogo vi sia risultato interessante. Il nostro video week è terminato, ci vediamo al prossimo appuntamento. Un abbraccio a tutti.